Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore la grazia di vivere sempre in questa dimensione, sì, nella dimensione dei figli di Dio, chiamati a continuare l'opera del nostro fratello e capo Gesù. Lui è venuto nel mondo per riportare l'umanità sulla via dell'amore e della pace. La nostra chiamata battesimale è un invito a continuare questa sua opera, questa sua missione. Qui, in questa terra benedetta dalla presenza di Padre Pio, quest'umile frate che pregava, che ad ogni alito del suo respiro, ad ogni battito del suo cuore, ha detto sì al Signore che lo chiamava, impariamo anche noi a dire il nostro sì generoso, perché la missione di Gesù continui, va davanti. E noi non chiediamo altra ricompensa, non chiediamo altra gioia, perché già sappiamo di averla. Gioite, esultate, siate pieni di gioia, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.